Sono qui con il Presidente Carbone, già sto registrando, ciao Presidente, mi ha venuto a fare, ti trovo subito sempre in forma, come sempre? Ascolto, ho stato votato di questo nuovo sponsor del Guglielmo Filtrusa Coffi nel Bike Revolution, ma è una notizia fondata oppure è una cosa fantomatica? No, assolutamente no, io ho già cominciato nel posto, ne quest'anno, nell'anno prossimo ne ancora l'altro, assolutamente no. Bella questa visita, è antica infatti, bellissima, vai, 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 fai un'immunazione, ciao Carlo, ti sei discusi per caso? Hai visto il Guglielmo Filtruso? No! Lui comunque ha detto che forniva dell'integrazione a tutta la sua, le spese totali che si affronteranno nelle case, ma non è una questione di... non è una questione economica, non è nemmeno una questione di fornitura. Che l'ha raccontata questa bottiglia a lei? Eh non lo so, si dice su Facebook, c'è qualcuno che ha messo questa voce su Facebook, ma non è vero, assolutamente, assolutamente. i nostri unici sponsor, gli unici e il primo in assoluto Tony Daniello, poi abbiamo il nostro amico ancora, un altro amico Mario Ero Stucchi, e adesso non c'è, vabbè l'hai fatto una foto, e poi abbiamo un altro carissimo amico GPC di Gennaro Montella, basta! Noi! Se ne vedete a voi queste divise quando saranno pronti? Ma se tutto va bene, come hanno detto, voci abbastanza fondate, per domani dovremmo avere le divise. che non l'abbiamo materialmente, ci diciamo giusto, che non l'abbiamo in mano. E' una sorpresa Antonio! Abbiamo visto la potenza del nostro amico Daniello, domani. L'ordine è finito mercoledì, eh, cioè da specificare. Visto che mi trovo con Antonio Daniello, vorrei ricordare di quella gara, no, della cicloturistica che ci sarà a Roma, e la tua partecipazione? Sì, andiamo lì, con il mio gruppo siamo 13 persone. Ma le autorità hanno dato l'autorizzazione, visto le previsioni metodologiche a vento? L'hanno data, anche perché segna che il tempo migliora. Quindi la protezione civile ha dato... Poi è beneficenza, quindi anche se piove andiamo, insomma, sarebbe beneficenza. Quindi si svolgerà questa cicla turistica e poi si sarà... Saremo là, poi, insomma, ci sarà, penso, qualche festa o qualcosa, e poi torneremo... Sì, perché inizia alle 11, mentre, insomma, si faranno le 3-4 per... Pensate, in questa occasione non ti ho scritto la vostra nuova divisa? Veramente quelle di Eriquo arrivano domani. Le Daniello Bike c'è qualche giorno di diritto, veramente. Ma perché sono fin numerose? Però io, personalmente, userò quella di Eriquo. Quella attuale del team Daniello? No, quella di Eriquo che hai detto. Ah, Eriquo che hai detto. Ma è che devo uscire. Quella invernale, va bene. Questo è un onore grandissimo. Io mi sento di dire solo che... Penso che nella storia... Nella storia di... Non lo so se esiste un altro esempio, ma non credo. Perché iniziare così e poi andare subito... Non lo so, è difficile descrivere questa cosa. E si dà le presentazioni per questo gruppo che hai creato da... Infatti, cioè, la volta è nata proprio così. Spontane. 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 Trementi. Trementi. L'onore di far indossare la nostra divisa. Ma ecco, io non direi ecco. Perché per me è anche adesso campione. Secondo me non finirà mai di essere un campione. È un professionista nella vita. Sì, perché... Come uomo. Come persona. Come... Come meccanico. Come... Non lo so. Cioè, io... Sono veramente onorato. Io non dico più niente perché... Eh no, ma non ci stanno parole. Vi saluto. Un abbraccio a te. Vi chiedete. Vi salutiamo. Ciao. Ciao a tutti. Quante completine hai fatto per quante persone? Sì. Ma siamo arrivati a una trentina. Una trentina e... Ci saranno trenta componenti nel vostro tipo? Sì. E questo è... Visto che avete fatto tanto... Non avete fatto ducche per ogni... No, 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 no. Sono tutti... Qualcuno ne ha voluti due, ma qualcuno, giusto uno, un paio di persone, se ricordo bene. Sì, per quanto riguarda le gare per il 2015, penso che tutto al... Un momento di semplare. Un momento di semplice. Un momento di semplice. Inizierà proprio semplificamente, proprio, a partecipare, vivamente. Con uno dei nostri suori allo cielo, Luca Sarracino. Un di ragazzi più forti di più. Luca Sarracino che praticamente... Con uno dei fondatori del gruppo... Lascia stare che insomma l'ho spaccato in queste ultime settimane, insomma, però non è forte, non per dirlo è forte, quindi tanto di cappello, lui c'è il registro, ottimo, ottimo, facciamo i saluti a tutti da casa, ciao, in particolare saluto sempre, sempre ad Attilio Mazzer, Salatilio, a Guglielmo, purtroppo raggiudiamo questa notizia che non è accetto, non può essere, non può essere, io ho messo la buona parola, ma purtroppo, ma nemmeno se ci fatti un milione di euro, ma loro ti fatti una bella, lo fatti pure pazzo, ciao, 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 Grazie a tutti